La diagnosi del primo caso umano probabile di infezione da virus West Nile, fa sapere il Dipartimento Sanità di Regione Abruzzo, è stata effettuata nella giornata di ieri dal Laboratorio di Riferimento Regionale per le Arbovirosi dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise. L'uomo è attualmente ricoverato nell'ospedale di Pescara, ma domiciliato nel comune di San Salvo. Il sistema di sorveglianza regionale delle arbovirosi, malattie virali trasmesse da zanzare, ha consentito di rilevare tempestivamente le positività e di far attivare le misure previste dal Piano Nazionale per le Arbovirosi 2020-2025. I comuni abruzzesi interessati sarebbero quelli di Vasto, Casalbordino, Lanciano e San Salvo. Al fine di ridurre il rischio di esposizione dei cittadini al virus West Nile, il Dipartimento Sanità invita i comuni a potenziare gli interventi di lotta antilarvale nelle aree in cui sono presenti abitazioni private, luoghi di vacanza, parchi pubblici e aree ricreative, strutture sanitarie e sociosanitarie. Inoltre a prevedere interventi straordinari preventivi con adulticidi in caso di manifestazioni o eventi che comportino il ritrovo di molte persone in aree all'aperto. Tempestiva la nota del sindaco di Chieti, Diego Ferrara. L'attività di disinfestazione per il mese di agosto, ha detto Ferrara, è in corso ma a fronte di tale comunicazione abbiamo deciso di prevedere per la prossima settimana un altro ciclo su tutto il territorio cittadino provvedendo ad assicurare monitoraggio e pulizia dei ristagni e delle aree verdi. Tuttavia è fondamentale, ha proseguito il sindaco di Chieti, che i cittadini collaborino attivamente alla prevenzione. È inoltre importante adottare misure di prevenzione individuale come utilizzo di repellenti specifici, un abbigliamento coprente in caso di permanenza all'aperto nelle ore serali e notturne.